Il calcio spagnolo è il lutto per la scomparsa di Gonzalo Gomez, ex portiere di 34 anni che ha militato in squadre come Logrones, Calahora e Naxara. Gonzalo era ricoverato da diversi giorni in ospedale in condizioni critiche a causa di una grave malattia che lo affliggeva da tempo. Nelle ultime settimane il suo stato di salute è peggiorato, portando al tragico epilogo. Per motivi di privacy non è stata resa nota la causa esatta della sua morte.